Ehm, ciao! Oggi siamo tornati su Minecraft, un video un po' macabro, non possiamo parlare oggi, però è un po' macabro perché andremo a tagliare la testa ai mob e chi più teste otterrà più vincerà. E no, i semini purtroppo sono bellissimi ma non sono teste. Abbiamo qui uno starter kit con tanto di decapitatrice. Bello, bello, eh! E se tu uccidi un mob con questa spada, avrai la sua testa. Non so, cioè, queste due teste non valgono, mettiamolo subito in chiaro, ok? Ok, queste due teste non valgono, eh, no, per chi ti conosco. Ma quindi si è ucciso sto villager? Teoricamente hai una possibilità che ti droppi la testa e più teste ottieni, più punti farai alla fine. Quanto tempo? 20 minuti. A quando? Da ora, andiamo. Allora, abbiamo anche l'Hendel Nether, ti ho fatto vedere, e teoricamente non è il drop rate al 100%, però ogni mob... L'ho notato, eh! L'ho appena notato questa cosa. Droppa la testa, tipo hai ucciso una pecora bianca e mi ha dato una testa di pecora bianca. Ma, se io andassi a colorare una pecora di rosso, teoricamente dovrei avere la testa della pecora in rosso. Ed eccola qua, guarda che... quant'è grossa una pecora rossa. Questo sembra bello, se ha uccidito un po' lo sembra bella faccia comunque, proprio... è proprio la sua skin. Comunque ti dicevo che più ne uccidi, ovviamente più punti fai, ma devi giocare anche d'astuzia, perché ripeto, valgono anche le varianti. Quindi ragiona, quali mob ha tante varianti, quali varianti posso fare, e qui arrivi ad avere... Però io sono andato fortissimo, eh! Di già, io ne ho già quattro. Quattro... Io ne ho sei di testo. Eh, ma... non importa. Non importa, perché poi dopo tu ti bloccherai, io invece mi sono studiato un sacco di tecniche, tipo andare nel Nether, nel Nether, la testa del Drago... No, non è vero, quella no. Io voglio uccidere il Drago adesso. Il Drago non c'è nel Nether, lo devi risemulare se lo vuoi. Vabbè, allora... Senti, allora, io lo volevo lasciare, poi ho detto, ma chi è che si mette a uccidere un Ender Dragon che ci vogliono 40 anni? Sì, ma non è conveniente. Cioè, se vuoi lo rifaccio rinascere, se lo zizzeri... No, ma per carità divina, ma... Ma se vuoi anche la testa di Drago, io non ho problemi, basta che fai un Summer Ender Dragon. Come si è messo tu? Io sono messo veramente forte, sto andando. Allora, io ne ho al momento solo sette, cioè solo, ne ho sette, però sono abbastanza tranquillo. Ho appena fatto la peccola di un colore strano. Ma non so... Devo starnutire! Eh, fallo! Oddio! Oddio, fai... stimoli il naso, fai tipo così. Comunque... Ho starnutito. Non voglio dirtelo, perché dopo te la prendi anche tu, però c'è una testa molto strana. E i fan l'hanno appena vista nel video, è particolarmente brutta. No, adesso lo voglio sapere. Eh no, perché se te lo dico, poi dopo capisci una grande variante... Non... va bene, il salmone. No, non l'ho fatto il salmone. Sì, ti invito a farlo perché è davvero molto spaventosa. Non ci ho neanche pensato che si potesse fare il salmone. Eh, lo so, non te lo devo dire che c'erano anche i mostri dei mari, dei laghi da prendi. Ma io l'ho preso, qualcosa non l'ho preso. Sì? Oh, il cavallo! Il vacallo! La droppa! Ma il vacallo, drop rate basso. Drop rate basso. Ogni mod ha su drop rate, non te l'ho detto. Ogni mod ha su drop rate. E quella bellissima è della lie. Però non penso che la troveremo mai. Uh, questa bella, questa bella, questa bella. Ti prego, dimmi che me la droppi al primo colpo. Sì! Ho la testa di... non posso dirtelo. Oddio, valgono anche le varianti. No, Marci, non hai capito. Uh, sono diverse perché questa è con... E questa senta... Capito? Io ho trovato... Se vuoi te lo dico. Dai, io ti dico cosa ho trovato. Io ho trovato il gatto. Bello il gatto perché ha un sacco di varianti. Ma io ho trovato l'ape. E io ti dico che l'ape ha le varianti. No, non ha varianti. Sia se ha il miele, sia se è arrabbiata, sia se... Ha tutte le varianti del mondo. Ok, interessante. Ma te il cavallo te l'ha dato alla fine? No, io però non insisto, secondo me. Non... È molto basso, non ho tempo da perdere. Stavo andando in miniera, ma questa miniera è una miniera. Finta! Quindi esco me la trovo un'altra. Esatto. Qua per caso ci sono anche qualche... Come si chiama? Non struzzo. Merluzzo, Merluzzo. Merluzzi? Eh, il Merluzzo lo sto cercando anch'io. Non lo trovo. Che cosa ha già visto? Io ho trovato un'altra cosa. Ho trovato un'altra cosa, diciamo... Annegata. Sott'acqua. Hai trovato un'annegato? Eh... No. Sì, un Drowned. Ma si chiama Ancient Code. In che senso Ancient Code? Ah, è vero. Chiamo Ancient Code. Ma ti invito a piazzarlo a terra e a osservarlo. No, non me la sento. No, farlo, secondo me... Non mi fa paura. No, sì. Non so dove sia la faccia. Oddio! Io vado in giro con la testa in testa. Oh, Creeper! Non devi esplodere, bro? Mi devi dare la tua testa? Creeper, oh, my God. Bro, oh, my God. I got a Creeper head. Oh, campione, ci siamo dimenticati di una cosa bella, noi. Cos'hai dimenticato? Un bel mob interessante. Un mob interessante. Ho capito. Dimmi. L'Iron Golem. Eh, quello. Non c'è da saperlo. Eh, ci ho ragionato dopo. Ho detto un mob interessante, vuol dire che ce ne sarà soltanto uno vicino allo spawn. Eh, è bello, eh. Eh, quello è un punto bello, perché effettivamente io non lo posso più rifare, a meno che non mi cerco un altro villaggio. No, respawno. No, no, respawno. Se noi andiamo in un'altra dimensione, respawno. Dici, non ne sarei così sicuro io, eh. No, 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 sì, sicurissimo, respawno. Io non ne sono così sicuro, però... Però i gatti, tecnicamente, ne dovrebbero spawnare tanti. Vabbè, io cambio dimensione, vado nel land, che c'è poca roba. Infatti, volevo dirti un attimo una roba, ma non trovo più lo spot di spawno. Se mi ammazzo, c'è la Keep Inventory. Sì, sì, c'è la Keep Inventory, puoi ucciderti tranquillamente. Guarda un attimo, dall'altro trovo dei gatti, perché se trovo dei altri gatti non sarebbe male come cosa. Allora, potrebbe essere una cosa interessante. Perché il gatto è il Game Changer, se ci pensi, nonostante gli apposti di uccidere. Perché questo Enderman ha gli occhi verdi? Vabbè, io vado un attimino a cercare un attimino il portale e non lo trovo. Allora, c'è una cosa che si potrebbe fare. Ah, posso uccidermi? Sì, puoi ucciderti. C'è una cosa che si può fare, però è molto complicata. Ok. E io non te la dirò, ma la sto facendo vedere in video. End city è andare a uccidere. Ho appena visto una cosa bellissima. Se ti uccido un mob, droppi la tua testa. E in quel caso vale, in quel caso vale. Adesso vado a riprendermela. Quindi se ti uccido ottengo anche la tua di testa. E sono due punti in più. Eeeh, senti, io ho appena trovato il glowing squid. Ti va di... Bello quello. Ti va di venire nell'end a farti uccidere? Devastante! Devastante! Wow! Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Che cosa? Cosa? È bellissima! Oddio, cosa? La glowing squid ahead! Io ho scoperto che gli Enderman erano delle varianti. Non so... In che senso? Non lo so come. Ma è successo ciò che volevo che succedesse? Cioè, un Enderman... Io, anch'io. Esattamente due file interi. Però ne ho una terra, quindi ne ho due file e uno. Dicevo che gli Enderman hanno una variante con gli occhi verdi. Non so come. Però me l'hanno droppata, quindi... Che stai dicendo mai? Non mi lamento. E questo invece era ciò che stavo cercando. Che secondo me tu non ci arriverai mai a pensare. Ma vedi che se potrebbe va anche... Oddio. Volendo anche, però non credo... Non lo voglio andare a prendere. Nel End c'è solo quello. Questo è quello che credono le persone. Ma le persone non sanno che in realtà non è così. Ho capito. Adesso lo dici. Tu pensi che io sia Fess? Eh, che cosa stai pensando? Tu pensi che l'Enderman non sappia che sia un'entità? Oddio, in realtà non ci ho pensato. Ah, non era quello? No. E non l'ho neanche provato, però... Posso sapere qualcosa? Sono abbastanza curioso. Eh, si trovano in Land. Campione, io c'ho un Game Changer. Più del mio Game Changer, sei sicuro? Più dell'Endermite, sì. Come fai a sapere che era l'Endermite? Perché ci ho pensato anch'io di farlo. Ok. Vabbè, è complicato da fare. È molto complicato. Carino questo. Ok, allora. C'è troppa gente. Qua io ci schiatto sicuro. Qua io ci schiatto sicuro. Ci schiatto sicuro. Sono morto. Sono morto. Non sopravviverò mai. Sono morto. Quello che ho preso io? Se puoi sì. Anzi no, non te lo dico perché sennò non posso, cioè... No, puoi, puoi. Ti do il consenso. Io non ti preoccupare. Orca miseria. Ti do il consenso, puoi dirlo? Eh, va a quel paese. Bro, non ci credo. C'è il Warden. Io non credo di aver voglia di uccidere il Warden, però lo sai. Io ne ho tante adesso. Cioè, se lo vuoi fare... Fallo. Io no. Io no. Io ho trovato... Ma chi mi sta picchia... Hai stancato! Io ho trovato una cosa che però non so come prendere. Se tu mi dici com'è, prova a dirtelo. Eeeh... Come si chiama? Quello che cammina sulla lava. Lo strider. Lo strider, però... Ho preso anche lo strider. Eh, non so come tirarlo fuori dalla lava. È tipo impossibile. Allora, sto prendendo un sacco di tempo. Ma l'entermet l'hai fatto? Sì che l'ho fatto. Ma per chi mi hai preso? Chi vi ero di l'entermet, vero? Ti ho detto, ti ho detto. Secondo me ce n'è anche qualcun altro. Ma tu quanti ne hai trovato di variante, scusami? Ho appena visto una cosa. C'è un piglin con la mia testa. Vabbè, eeeh... Ma io la vedo sempre verde. Cosa? No, io ne ho trovato anche uno viola. Ma porca di quella miseria. Allora, qua bisogna fare un ponte. Me lo butteranno giù sicuro 100%. Ma io ci provo comunque. Oh, non mi passano i blocchi. Ma l'entermet non esce manco a morire? Io l'entermet ti dirò la verità. Ho provato a spawnarlo con l'entermet, non menato. Ma ho trovato una testa a terra. Ma come? E penso che sia spawnato naturalmente e l'abbiano ucciso. Voilà! Ma ora vedi l'achievement? Vabbè. Stavo di fare qualcosa di tipo super stealth invece... In un minuto? Sì. E in realtà, se sono fortunato, perché non c'è in tutti i tipi di bastione, c'è anche un altro mob. Che spuona solo... Cioè non solo qua. Magma Cube. Esatto. Ma sei troppo... Ma sei sulla wave. Sei sulla wave. Oh, c'è un piglin piccolino. Ma tanto ce l'hai già. No, non cambia. Il pigman. Non cambia. Mi dispiace. È uguale a quello grosso. Ok, tu vattene via. No, old zombie find piglin school. Allora, brutto, brutto, brutto. Obiettivo brut... No, qua no. Ma lo stradale l'hai preso alla fine? No, non sono riuscito. Purtroppo. Per me non è difficilissimo. E il fatto è che stanno tutti nella lava. E quindi è complicato. Ho appena usato due shulker box come blocco da costruzione. Vabbè. Può capitare. Ok, sono un genio. Come hai fatto a prenderlo? Dai, io te l'ho suggerito. Ci sta aiutarmi dicendomi come l'hai ottenuto. Dovresti venire nel nether. Te lo faccio vedere. Sono già nel nether. Ok, il brutto è bruttissimo alla testa, effettivamente. Questa però non la lascio a terra che io ti conosco. Poi tu la trovi, tapì. Quindi la metterò lì. Ma semmeno strada non lo dà neanche. Secondo me sì. Però... Allora, fammi ragionare. Mi ammazzo. Mi ammazzo. Non mi sarei più niente nel nether. Basta. Cambiamo dimensione. Allora, gli ultimi quattro minuti, che in realtà sono meno di quattro, li passo qua. E torno dove sono stato pochissimo tempo. In realtà... No, nel nether c'è stato praticamente tutto il tempo. Ah, tu hai fatto anche questi che non ho fatto. Oddio! Ti prego! Porca puzzola, non ci credo. Non ci credo. Mi ero sponato davanti. Peccato, un peccato. Ora sarà desponato. Neanche che ci torni, secondo me. Porca miseria! No, ma non ci tornare neanche. Ormai è desponato. Ok, io lo strier. Ma dai, l'hai preso davvero. Ma porca miseria. Mi serve una caverna. Allora, qua c'è lo scheletro, che è molto buono. Molto buono per la testa e per la farina d'ossa. E in caverna... Peccato, c'è anche una cosa che tu non ti sei visto, secondo me. Una cosa difficile da prendere, ma molto forte da utilizzare. Un vaquerna? Un vaquerna, esatto. Hai capito cosa mi sto riferendo? No. I pipistrelli. Ah, l'ho già preso il pipistrello. Quando l'hai preso? Come l'hai pensato? Chi te l'ha suggerito? Nessuno. Esplosono creeper e stanno morendo tutti. Vabbè, anzi, uccidimi. Uccidimi, uccidimi. Così ho un po' più di tempo per fare una cosa. Benissimo. Allora, mi servono delle pecore. Mi servono delle pecore perché almeno provo a fare il colorante bianco, rosa, tutto quello così. Tu l'hai già fatto, il colorante rosa? No, il colorante rosa no. Ok. Allora, dieci secondi, non ce la faccio. Dieci secondi? Non ce la faccio. Non ce la faccio per poco. Non ce la faccio per poco. Dai, non ce l'ha fatta. Un minuto, dai. Ti lascio un minuto in più. Mi lasci un minuto? Sei sicuro? Potresti perdere con questo minuto in più, te lo dico. Niente, io ci credo in te. Ok. Trenta secondi, devo uccidere, sperando che ci sia l'aeron golem qua. Ti prego, dimmi che c'è anche un aeron golem. Ti prego, dimmi che hai spawnato un aeron golem. Per fare un aeron golem. Un aeron loghem. Che poi in realtà, oltre all'aeron golem, qua potremmo spawnare anche i gattiii. I gattiii. E non è un altro golem. Niente. Vabbè, non ammazzo questo villaggio perché ho voglia e torniamo allo spawn. Ok, sono già allo spawn io. Allora, abbiamo messo tutte le nostre teste all'interno di queste chest. Io ho la bellezza di tre file e quattro teste. E mi sono scordato di ucciderti. Dato che ci siamo tre file e cinque teste, mentre... È giusto così, effettivamente. Mentre tu... Beh, allora, ti dirò. Pensavo peggio? Ma perché tu hai... Ma il tuo salmone è diverso dal mio? Vediamo? Guarda! Ma il mio salmone è bruttissimo! Anzi, vedi che tu hai un ancient salmon? Ma dov'è il tuo quad? Ma non ci credo. E non ce l'ho, il quad, non l'ho trovato. Ma guardati! Quindi anche i salmonevano le varianti. Sono tutti diversi. Guarda, infatti, il piglin. Io di piglin ne ho due. Ma sono uguali. Ma non ci credo. Ma non vedete sto gioco. E sai perché è diverso? Perché è diverso? Perché io sono morto, sono tornato lì e questo piglin aveva la mia testa in testa. Ma dai, non è giusto. Ma vedete questo, vabbè. Il game changer è stato il... Il bat. Eh, ma il bat ce l'ho anche io. Però faccimi vedere. Eh, c'ha il gatto, il golem, il salmone, il strider. E vedi, anche l'oltre zombie fa il piglin. Io non ce l'ho il tuo piglin, quello che hai tu. Vedi che è il piglin zombificato. Eh, non lo sapevo purtroppo. Purtroppo non lo sapevo. GG, hai vinto. Complimenti. Applauso. Ragazzi, ciao a tutti. Ne voglio fare un'altra di sfida così. Non so come lo farai, però voglio fare delle sfide così. Effettivamente sei il sicario migliore. Noi ci vediamo domani con un prossimo video. Non ho tagliato a testa i vostri amici. Buon Natale a tutti e felice anno nuovo. Bella raga.